Servizi Funebri Cavesi offre un servizio di onoranze funebri completo e su misura per ogni tipo di esigenza. Siamo a Cava dei Tirreni in corso Mazzini numero 224. L'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni per organizzare gli eventi collegati alla festa patronale in onore della Beata Vergine dell'Ulmo chiede aiuto ai privati. Anche quest'anno l'amministrazione, attraverso il coordinamento del delegato alla cultura Armando Lamberti, intende promuovere ed organizzare una serie di manifestazioni in occasione dei solenni festeggiamenti civili in onore della Beata Vergine dell'Ulmo, celeste patrona di Cava dei Tirreni. Per questo motivo da Palazzo di Città si cerca una collaborazione ed un sostegno da parte di singoli cittadini, fondazioni, associazioni, comitati, professionisti, operatori commerciali e imprenditoriali, attraverso l'Istituto della Sponsorizzazione Tecnica. Coloro che intendono formulare proposte e sostenerle direttamente, relative all'illuminazione del Sagrato e dell'ingresso della Basilica Pontificia, a manifestazioni artistiche e culturali ed attività di servizi, possono farle pervenire utilizzando l'apposito modello, reperibile sul sito web del Comune di Cava dei Tirreni, all'Ufficio Cultura dell'Ente, entro le ore 24 del prossimo 23 agosto. La festa in onore di Maria Santissima Vergine incoronata dell'Ulmo, patrona della nostra città, è sicuramente la festa più importante che la nostra comunità annualmente nel mese di settembre vive e condivide nell'ambito di una ricchezza di iniziative di carattere religioso e poi ci si augura anche nella diversità di una proposta artistica, culturale che deve animare il programma civile dei festeggiamenti. E proprio perché è la festa più importante della nostra comunità, l'amministrazione comunale quest'anno, in continuità anche con gli anni precedenti, farà la sua parte per assicurare un programma civile decisamente articolato, diversificato anche nelle varie proposte artistiche, che dia particolare dignità a questi momenti della nostra vita civile. Per questo motivo abbiamo confermato la sollecitazione, l'invito alle aziende private, agli istituti di credito, alle associazioni che operano sul territorio, anche ai cittadini, di poter sostenere direttamente delle iniziative artistiche, culturali, tutte le attività legate allo svolgimento della festa patronale. Quindi il richiamo anche alle luminarie, che sono un elemento tradizionale, irrinunciabile di ogni festa patronale. Ed è per questo motivo quindi che rivolgo a tutti l'invito ad essere vicini all'amministrazione, dichiarando appunto la disponibilità a sostenere tutto il programma che stiamo cercando di redigere. Il cartellone partirà dal 1 settembre e si concluderà il 15 settembre. Quindi mi auguro che questo appello molto accorato, che ripeto, rivolgo alle aziende private che operano sul territorio e non solo, alle aziende di credito, alle associazioni, ai cittadini, possa essere raccolto e quindi arrivare alla definizione di un programma che possa rispondere alle attese dei nostri concittadini.